Si è tenuto oggi pomeriggio nel Salone Pierluigi di Palazzo Farnese l'inaugurazione delle giornate FAI di primavera, evento nazionale che sabato e domenica aprirà al pubblico 750 luoghi solitamente invisibili. Un ricco programma di curiosità itinerari culturali, dedicati per questa edizione all'imperatore Augusto nel secondo millenario della sua morte, attende di essere scoperto tra città e provincia. E proprio durante l'inaugurazione il conservatore del Museo archeologico, Anna Maria Carini, ha illustrato alla presenza del sindaco Paolo Dosi e delle autorità la mostra permanente di Palazzo Farnese, la nascita del Museo di Piacenza tra antiquari e archeologia. Oltre 240 oggetti in bronzo, ceramica e vetro risalenti all'epoca romana che da 60 anni si trovavano nei magazzini di Palazzo Farnese e di tanti collezionisti. Oltre a questo materiale eterogeneo dal punto di vista della cronologia e della tipologia, ho aggiunto anche una vetrina relativa alle monete d'epoca augustea per celebrare in qualche modo il bimillenario d'Augusto che anche il FAI ricorda in queste giornate. Domani e domenica gli appuntamenti si svolgeranno a Piacenza e Veleia. L'invito è steso a tutti i cittadini per riscoprire la propria storia antica.